Mi capita spesso venire qua per lavoro, c'è il centro congressi proprio qui vicino, sai fai due cose in una stessa occasione, cioè fai un po' di lavoro e poi qui hai il mare a due passi, ma anche per i bambini insomma, ci sono tutti i parchi acquatici, via le ceccarini da questa parte, è veramente comodo e quando non hai più voglia, stacchi e te ne vai a mare.